La tragedia di Chiaravalle si indaga per omicidio volontario, disposta dal PM l'autopsia sui corpi di madre e figlio, tra le ipotesi quella dell'omicidio suicidio. Il leader di 5 Stelle e Lega oggi nelle Marche, Conte critica la giunta regionale e rimarca i problemi della A14, Salvini traccia il programma delle infrastrutture. Il piano post alluvione della regione Marche, previsti lavori per 130 milioni di euro, sette casse di espansione presto realizzate sui fiumi Misa e Nevola. Stop agli accordi con Israele, la protesta degli studenti dell'Università di Macerata occupata la Facoltà di Filosofia. Una buona serata dalla redazione di ETV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire in televisione sul canale 12, ma ci trovate in contemporanea anche in streaming sul nostro sito che vi ricordo www.etvmarche.it e poi ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app. Ma iniziamo subito il nostro telegiornale con le notizie. In primo piano purtroppo la cronaca con la tragedia di Chiaravalle. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio volontario relativamente al ritrovamento ieri dei corpi senza vita di due persone, madre e figlio nel loro appartamento appunto a Chiaravalle. Ci spiega tutto Linda Cittadini. Sarà l'autopsia a rendere più nitidi i contorni di un dramma avvenuto nel silenzio tra le mura di questo appartamento in via Gramsci a Chiaravalle. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio volontario dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di madre e figlio Loredana Molinari di 78 anni e Maurizio Bucciarelli di 54, trovati a terra vicini con ferite e sangue. Il PM Ruggero di Cuonso ha disposto l'autopsia e la guidata non è stata ancora fissata per accertare le cause delle morti, ma anche da quanto tempo i due fossero deceduti. L'allarme era scattato dai vicini per uno strano odore nel palazzo. Questo cattivo odore l'avevate sentito anche voi? Beh, un po' tutti. Però io onestamente pensavo che fossero le fogne magari. Ho sentito solo due giorni prima un pochino la puzza, ma non so che è successo. Una delle ipotesi è che si tratti di un omicidio suicidio, ma si indaga a 360 gradi. La porta dell'abitazione non presentava segni di effrazione. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. Persone molto schive, molto solitarie. Io l'ho incontrata quasi mai. Persone molto riservate, però una cosa del genere non si poteva pensare assolutamente, assolutamente. Io ci ho parlato poche volte anche con lei perché non dava confidenza a nessuno, però era una persona che anzi lo dava al figlio. Stravedeva per il figlio che lavorava in banca ogni volta che... Quelle poche volte che ci ho parlato proprio era entusiasta del figlio. L'unico dispiacere suo è che non ci aveva una compagna, niente. Però a parte quello, insomma, proprio stravedeva per il figlio. Eravate abituati a non vederli? No, non li vedevamo mai perché lei non usciva mai da casa, soltanto per fare delle visite. E lui se li incontravi nel momento che veniva dal lavoro, o portava via magari la sera l'imbondizia, ecco. Ma li avrò incontrato tre volte in 4-5 mesi. Ma hai sentito grida, litigi? No, assolutamente. Erano due persone riservatissime, silenziose, proprio una roba... Io ho otto anni che abito qui, però non mai. Un paio di volte sono andata da lei per via dei problemi di condominio, perché lei Polivirina non camminava più di tanto. Li conosceva? Sì, sì. Che persone erano? L'ora un'altra persona, anche sua madre, che ti dico io? Di più non posso dire niente. Io ne conosco suo padre, lui è morto da 80 anni. Che ti dico altro? Niente. Ed ora invece apriamo la pagina politica. La nostra regione è protagonista nella corsa verso l'Europa. Oggi infatti visita nelle marche di ben due leader nazionali. Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Noi partiamo dal presidente dei 5 Stelle con l'intervista realizzata in esclusiva dal nostro Giacomo Giampieri. Sentiamo. Presidente, partiamo dalla situazione marchigiana, in particolare quella legata all'infrastruttura. Aeroporto con gli impegni in passato dei 5 Stelle, ma anche la terza corsia in A14 e la strozzatura a sud. Quali i vostri impegni? Cosa pensate di poter fare? C'è molta insoddisfazione per quanto riguarda l'azione di questa giunta regionale marchigiana. Proprio per l'aeroporto Raffaello Sanzio non si è fatto nulla, nonostante il grande apporto che noi abbiamo dato per migliorare questa infrastruttura, renderla anche più competitiva, più a misura dei cittadini marchigiani, durante i nostri governi. E anche per quanto riguarda l'A14, ma lì c'è anche un problema di sicurezza, non c'è soltanto un'assossatura. Ci sono stati 13 incidenti mortali, vittime mortali, negli ultimi 36 mesi. Dobbiamo assolutamente lavorare, avevamo già impostato nel Conte 2 un progetto di fattibilità, ma non sta andando avanti nulla. Quindi i cittadini marchigiani hanno diritto a una svolta da questo punto di vista. L'apporto in Europa, invece, perché la vostra proposta è alternativa? Quali temi principali rispetto ai poli Meloni-Schlein? Guarda, io non voglio mettermi a fare paragoni, ma è chiaro che i nostri parlamentari andranno a Bruxelles come costruttori di pace. C'è stato il fuoco a Gaza immediatamente, negoziati di pace immediatamente nel conflitto russo-ucraino. No all'austerity, contrastiamo questo piano di austerity che è ritornato in Europa, vogliamo una transizione verde, vera, effettiva, contrastiamo qualsiasi forma di corruzione e opacità. Ecco dire che queste sono le nostre linee essenziali che ci caratterizzano. Parlando di Parcondicio, qualche giorno fa lei ha raccolto l'invito eventualmente di andare da Mentana, mentre il confronto da Vespa si terrà soltanto Trashline e Meloni. Il suo pensiero? La Gcom ha statuito che il confronto Meloni-Schlein era un confronto che non rispettava la parità di trattamento e di condizioni rispetto alle altre forze politiche. Mentana ha offerto invece la possibilità di un confronto rispettando la parità di condizioni, quindi allargato a tutti i leader. È per questo che ho accettato l'invito di Mentana. Giorgia Meloni, cosa farai? E lo dicevamo nelle Marche, in queste ore anche il segretario della Lega Matteo Salvini, ieri sera ad Ascoli, oggi a Pesaro. E proprio a Pesaro noi l'abbiamo incontrato. Salvini è apparso particolarmente convinto della forza del suo partito in vista delle elezioni europee. Sentiamo. La Lega penso che sarà la bella sorpresa di queste elezioni europee. Due giorni nelle Marche per il Ministro delle Infrastrutture e Vice Premier del Governo Meloni, Matteo Salvini. Ieri sera ad Ascoli, al Teatro Ventidio Basso, per la presentazione del suo libro Controvento. Oggi invece tappa nel Pesarese per discutere di alcuni argomenti a lui cari, in particolare le infrastrutture, con sensibili novità per quanto riguarda quelle marchigiane. Finalmente le ferrovie ci stanno lavorando. Ci sono diverse ipotesi progettuali, ho dato questo mandato, questa indicazione. Lavorandoci insieme ai territori, perché in passato ci sono state polemiche anche all'interno del territorio marchigiano, fra sindaci, fra comuni, fra realtà locali, io penso che sia fondamentale, sia un intervento costoso ma assolutamente doveroso e utile. E a breve arriveranno diverse ipotesi progettuali su cui lavoreremo, ripeto, con i sindaci e su cui sceglieremo. È tanti anni che se ne parla, conto di mettere nero su bianco un progetto, così come da tanti anni si parlava della guinza, adesso conto che non fra qualche mese, ma fra qualche giorno vengano consegnati alla ditta i lavori e quindi si parta perché le Marche sono un territorio stupendo ma fragile, sia nell'interno che lungo la costa. Ministro, invece venire da Ascoli ieri sera a un teatro gremito, però è passato nuovamente, presumo, in A14. Ci sono aggiornamenti in merito a quell'infrastruttura perché al sud della regione si creano strozzature, evidentemente? Io faccio lo stalker di autostrade per l'Italia, perché lì ovviamente quando si parla di ferrovie dello Stato, rete ferroviarie italiane o ANAS, la competenza è pubblica e quindi posso intervenire, direttamente. Quando si parla di un privato, di un concessionario privato, diciamo che sia sull'A14 che sul nodo di Bologna, che sul passante di Bologna, che sulla gronda di Genova, sto pressando autostrade per l'Italia perché faccia in fretta. E a proposito di elezioni, quelle amministrative però continuano i nostri approfondimenti per conoscere i candidati del territorio. Stasera spazio ai tre candidati sindaco di Fano, Cristian Fanesi, coalizione del centro-sinistra, Stefano Marchegiani, coalizione dei progressisti e Luca Serfilippi della coalizione del centro-destra. L'appuntamento è alle 22, conduce il nostro Giacomo Giampieri. E prima, da non perdere alle 21, l'appuntamento con Sibilla, condotta come sempre dalla nostra Linda Cittadini. Oggi un importante focus sul post-alluvione tra prevenzione e ricostruzioni dal decennale della tragedia di Senigalia del 2014 a un anno dall'alluvione del 15 maggio 2023. In mezzo il dramma del 15 settembre 2022. Stasera verrà fatto il punto con il vice commissario Stefano Babini e Andrea Morsucci, referente del comitato tra due fiumi, oltre alle imprese del territorio. Ed ora continuiamo a parlare di alluvione perché è stato presentato questa mattina in regione lo stato delle opere e delle infrastrutture contro il rischio idrogeologico. Un piano da 130 milioni di euro. Andrea Fiano. Quattro casse d'espansione dalla confluenza del Misa fino a monte dell'autostrada di Senigallia e che prevederà altre tre ulteriori casse che dovremo studiare e che stanno invece a monte della confluenza. Una in località Ponte Lucerta, l'altra Pancaldo e l'altra in zona Zipa. In realtà le due casse di Ponte Lucerta e Pancaldo sono già in fase di studio e di progettazione esecutiva. In tutto fanno sette casse d'espansione lungo la valle del Mise del Nevola. La soluzione auspicata, studiata e progettata contro le alluvioni perché la tragedia del 2022 insomma non si ripeta più. Un intervento di mitigazione idraulica previsto all'interno del piano delle opere strutturali e infrastrutturali presentato dalla struttura commissariale della regione Marche a tutti i sindaci dei territori colpiti dallo tsunami di acqua e fango di quasi due anni fa. 130 milioni di euro in tutto, di cui 113 da fondi alluvione, i restanti da fondi Mase. È il frutto di un lavoro lungo e congiunto tra Università, Politecnica di Camerino e Firenze e Fondazione Cime con supervisione dell'autorità di Bacino. Casse d'espansione dunque, tre a monte della confluenza di due fiumi, uno dove Mise e Nevola si incontrano altre tre, a Bettolelle, Marazzana e Borgo Catena, in un sistema comunicante e coadiuvante che tenga a riparo la valle e Senigallia. Con i lavori che sono stati fatti ci sarà un effetto laminante e quindi arriverà l'acqua in ritardo e con maggiore intensità, con maggiore velocità a Senigallia, quindi questo garantisce già in questo momento da quelle che sono le piene meno significative, però per mettere a sicuro il territorio da eventi come quello che si è verificato nel 2022 in pratica sono indispensabili le vasche per fare in modo che l'acqua venga trattenuta a monte e non interessi l'alveo in quelle quantità di precipitazioni. Il sistema di casse permette di ridurre, di tagliare il picco di piena in arrivo in particolare nell'abitato di Senigallia in maniera significativa. Al momento si passa da 900 m3 al secondo la confluenza a circa 340 m3 al secondo in prossimità del ponte dell'autostrada, con una piena simile a quella che si è realizzata nel settembre del 2022. C'è poi tutta la partita degli interventi sugli argini di fiumi e torrenti delle province di Ancona e Pesor Orbino, le demolizioni e ricostruzioni di una decina di ponti tra Senigallia, Ostra, Trecastelli, Corinaldo e Serra dei Conti, quindi le opere di ripristino nei comuni di Pergola, Cagli, Cantiano, Sassoferrato, Serra Santabondio e Fiuminata. Ed ora cambiamo argomento, torniamo sulla cronaca. Il giorno dopo il maxi sequestro al porto di Ancona da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane di farmaci indiani, facciamo il punto sulla regolamentazione e sui rischi di prodotti senza autorizzazioni e certificazioni insieme al professor Giorgetti dell'azienda ospedaliera Universitalia delle Marche. Sentiamo. La emissione in commercio di un farmaco nel nostro paese, ma diciamo in tutto l'emisfero nel mondo occidentale, è una procedura molto complessa perché ci sono delle rigorose caratteristiche di sicurezza del farmaco che devono essere garantite. Anche solo pensare a una quantità di dosaggio opportuno, l'assenza di contaminanti, possono esserci degli elementi tossici, pensiamo ai metalli pesanti nella produzione, o anche la contaminazione microbiologica, batterica per esempio, funghi che vanno a incidere su queste produzioni. Quindi il farmaco deve essere ben controllato ed immesso in commercio solo dopo delle rigorose verifiche. L'ultimo tentativo per arginare tutte queste verifiche di sicurezza è stato sventato al porto di Ancona dalle fiamme gialle dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli del Capoluogo, che hanno eseguito un maxi sequestro di oltre due milioni di dosi di farmaci di origine indiana, privi delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'importazione e distribuzione in Italia. Per gli investigatori è la più grande scoperta mai registrata in Italia. All'interno di un auto articolato sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia c'erano 1.700.000 medicinali con principi attivi per ovviare a disfunzioni erettili e anche a 400.000 dosi di medicinali contenenti ormoni per favorire la gravidanza, ma spesso usati anche nel mondo dei bodybuilders per aumentare la massa muscolare. Noi sappiamo che c'è un sommerso del doping che avviene attraverso il commercio clandestino. E' molto pericoloso. Noi abbiamo casistiche di persone che sono decedute in seguito all'assunzione dei dopanti e ovviamente la maggior parte delle volte il circuito era illegale. Il corredo farmaceutico illegale era completato da antiepilettici, spesso utilizzati, quale potenziatore degli effetti delle droghe. Oggi ovviamente con le tecnologie e con l'informazione è possibile apprendere, anzi si scambiano delle informazioni, si chiamano psiconauti, queste persone che hanno dei blog spesso nel dark web o nel deep web in cui forniscono l'un l'altro le informazioni sulle combinazioni, i trattamenti che producono più soddisfazione dal loro punto di vista. A Macerata ora invece dove gli studenti si mobilitano per la Palestina occupata anche la facoltà di filosofia. Roberto Properzi. Di fronte a quello che sta succedendo in Palestina e nel Medio Oriente più in generale non c'è nessuna altra risposta accettabile se non quella di rescindere ogni tipo di collaborazione con Israele. Con questa premessa il collettivo studenti de Panghera sta manifestando al fianco della resistenza palestinese nella facoltà di filosofia all'Università di Macerata. In tanti ieri pomeriggio si sono ritrovati per chiedere uno stop a tutti gli accordi con gli Atenei israeliani. Questo è un appello che viene direttamente dall'Università di Bezit, un'università palestinese che ha lanciato questa mobilitazione globale anche in occasione di oggi dell'anniversario della Nakba nel 1948. Oggi siamo qua per continuare la contestazione agli accordi che l'Università di Macerata ha con l'università israeliana, un'università privata che si chiamavano Carlemic College, un'università di Tel Aviv. A rispondere al collettivo non si è sottratto il rettore John McCourt che dopo un confronto molto animato ha voluto ribadire che con Israele non ci sono accordi ma una partecipazione più ampia a progetti europei. L'Università di Macerata collabora in due progetti europei, Beo e Horizon Europe e partecipa anche in questo fra i tanti partner anche due università israeliane, però di accordi diretti non ce ne sono. Anzi, sottolinea il rettore, l'unico accordo è con un Ateneo palestinese. Con Alcuzi University di Gerusalemme, un'università palestinese che lavora appunto per l'inclusione dei bambini palestinesi nei sistemi scolastico appunto a Gerusalemme e collaborano appunto col nostro Dipartimento di Scienze della Formazione. Il collettivo ha preso atto delle risposte del rettore e ha preannunciato che l'occupazione continuerà nei prossimi giorni. Ci sono molti casi, pensiamo alla Spagna che ha completamente bloccato tutti gli accordi, ci sono anche casi in Italia, la Finlandia e la Norvegia hanno completamente bloccato tutti gli accordi, perciò questa cosa si può fare e secondo il nostro parere si deve fare. Torniamo invece ad Ancona, buone notizie per quanto riguarda la viabilità sull'asse nord-sud. Sentiamo. Ripristinata questa mattina ad Ancona la normale viabilità dello svincolo semaforico che collega alla fine dell'asse nord-sud in ingresso in città e via Bocconi, tratto che circa sei mesi fa è stato interessato da un importante franamento. L'opera del costo complessivo di 121 mila euro è stata realizzata in circa tre mesi. Dopo qualche mese riapriamo la viabilità a seguito del franamento che c'era stato, i lavori completati, i collaudi fatti e grazie al lavoro importante che hanno fatto gli uffici restituiamo questa viabilità più scorrevole alla città. Questo è uno snodo fondamentale, importantissimo per la città di Ancona, non solo rifacimento quindi del manto stradale ma consolidamento, è quello che interessa più ai cittadini. Confermo, abbiamo fatto una scelta progettuale nel riconsolidamento del rilevato stradale perché c'era una discrasia tra l'impalcato stradale e la scarpata a tergo e abbiamo cercato di fare questo tipo di lavoro definitivo proprio per evitare tutti quei fenomeni di dilavamento che puntualmente venivano posti in essere dalle condizioni meteorologiche. Abbiamo ovviamente regimentato tutte le acque piovane con una serie di condotte, tubazioni e puzzetti che portano le acque piovane alla regimentazione nel sistema delle caditoie comunali. Ma non è finita qui come dicevamo per questo snodo fondamentale, presto verrà rivista anche la viabilità. Sì, faremo una valutazione cercando di utilizzare appunto questo svincolo che la città porta in via della ferrovia esclusivamente per i mezzi del TPL e utilizzeremo invece la rampa a tergo che interseca via della ferrovia e via Vallemiano per il flusso veicolare. Più o meno quali sono le tempistiche? Grosso modo un paio di mesi. Lo spettacolo del Giro d'Italia fa tappa nelle Marche. Il marchio di un grande delle classiche come Giuliana Lafilippe sul Giro 2024. Il francese due volte campione del mondo su strada ha vinto la dodicesima tappa da Martinsicuro in Abruzzo a Fano dopo 193 chilometri di corsa. La Filippe ha interpretato alla perfezione la tappa disegnata sulle colline marchigiane, lo strappo decisivo sull'ultimo muro di Monte Giove quando all'arrivo mancavano poco più di una decina di chilometri. E questa era la nostra ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.